Amici, amiche, ciao a tutti. Oggi siamo qui per vedere il mio ultimo acquisto fatto a Lidl. Si tratta di un frullatore all'immersione 4 in 1. Cosa significa? Che ha 4 lame per il suo unico braccio. Quindi ha delle lame intercambiabili che ci permettono l'utilizzo per diverse tipologie di frullati, diciamo così. La scatola è questa qui, come vedete è piccolino, 400 Watt di potenza. Deve essere un prodotto interessante perché sembra ben fornito, sembra comunque viene con la sua cassettina per quanto riguarda i ricambi. E a parte tutto non è nemmeno troppo caro, insomma parliamo di 20 euro, 19,99 per l'esattezza. La marca è la Silvercrest, marca tipica del Lidl. E ci offrono la bellezza di 3 anni di garanzia. Quindi, ragazzi, andiamo a leggere un po' le specifiche o perlomeno quello che ci scrivono qui sulla scatoletta. Frullatore all'inversione 4 in 1, con lame intercambiabili per mescolare, sminuzzare, sbattere e frullare. Velocità regolabile in maniera continua. Set di lame, lama multifunzione, lama per carne e verdura, disco per sbattere e disco per frullare. Lame in acciaio, inossidabile, inclusa pratica custodia e attrezzo per la sostituzione. Potenza massima, 400 Watt, lame adatte per lavastoviglie. Essendo in acciaio, tutto quello che lama può andare in lavastoviglie. Bene, vediamo un pochino di fare questo unboxing. Allora, primo cartoncino che protegge dagli urti. Andiamo a estrarre il tutto. Qui abbiamo il braccio. Qui abbiamo il motore. Manuale delle istruzioni. E basta più. Beh, devo dire che la scatola è fatta bene. Perlomeno la scatola va a proteggere bene il nostro frullatore in immersione. Qui abbiamo il manuale di istruzioni. Spagnolo, tedesco, austriaco, ch, cos'è? Svizzero? Ma in Svizzera si parlano tre lingue. E portoghese. Non vorrei dire una boiata, ma CH, sì, Svizzera. Comunque, l'italiano non c'è, quindi organizziamoci. Questo non ci serve. Andiamo a vedere i vari componenti. Qui abbiamo una scatolina con i ricambi, quindi le lame intercambiabili. Sono uno, due, tre e quattro. Quella che è già montata. E in più c'è anche una leva per lo smontaggio. E qui abbiamo il motore del nostro frullatore. Bene, bene, bene. E allora, andiamo a vedere subito. Il cavo ha una presa di tipo europeo small. Come vedete. Il motore è racchiuso in questo guscio di plastica. Cavolo, sembra un accessorio di piacere femminile questo qua. E come è fatto? Qua c'è l'interruttore. Suppongo che sia un interruttore in presa, quindi rilasciandolo il mixer dovrebbe smettere di funzionare. Questo per una ragione di sicurezza. Qua c'è la ghiera di regolazione potenza. La ghiera non mi piace molto, se devo essere sincero. La plastica è alquanto scadente. Sì. La plastica è un pochino scadente. Carino invece è l'interruttore che sembra avere una membrana che non permette la penetrazione di eventuali liquidi. Dopodiché, cosa possiamo notare? L'aggancio è in plastica. E al tatto sembra una plastica molto molto dura. Cosa che la rende anche una plastica così rigida e anche molto spigolosa al tatto. Cioè, mal rifinita si potrebbe anche rompere facilmente se andiamo a innestare il braccio in maniera così poco accurata. Non mi piacciono invece questi fermi. Vedete questa linguetta e l'altra corrispondente dalla parte opposta? Sono molto lunghe e strette. Cosa che ne potrebbe provocare una facile rottura. Questo non mi piace. E per lo smontaggio ci sono due viti. Vedete? Uno e due. Che necessitano di un cacciavite con punta triangolare. Avete capito bene. Triangolare non significa né a stella né piatto. Esistono cacciaviti particolari che hanno la punta triangolare. Questi qua li trovate tranquillamente su Amazon o su Ebay. Quindi se dopo aver visto il video vi andate a fare una ricerca, troverete questo tipo di cacciaviti che sono molto utili. Normalmente vengono vendute anche solo le punte in kit. Ci sono punte a doppia forca, triangolari, torx, eccetera. E costano attorno ai 4-5 euro. Spesa accessibile che molto spesso quando si tratta di frullatori ad immersione o quelli tradizionali con il bicchierone. Molti di questi qua hanno queste viti un pochino disgraziate da aprire. Beh, comunque andiamo a vedere Silvercrest 400 watt. Qui recita che è prodotto o commercializzato perlomeno in Germania. Manifattura del 2017-12. Quindi dicembre 2017. C'è un numero di serie e basta più. Silvercrest. Dopodiché, quindi il motore è un 400 watt. Non è potentissimo, ma consideriamo sempre che l'abbiamo pagato 20 euro. Andiamo a vedere il braccio invece. Il braccio qui ha il suo attacco al motore, corrispondente a quello che è il motore. E quello che notiamo immediatamente è che l'acciaio con il quale è composto è veramente sottile. È molto sottile. Il coltello, questo qua, non taglia, non ha lama. La lama non ha il filo tagliente. Ecco, diciamola così. Ed è piccolino. Dopodiché possiamo apprezzare Qui attorno Questi sono in realtà tre pezzi d'acciaio. Uno, due, il tubicino E tre, il cono. E sono saldati. La cosa mi stupisce Io qua vedo chiaramente una piccolissima saldatura Cosa che oggi o domani, a forza di vibrare, vibrare, vibrare Si potrebbe anche rompere E quindi potrebbe anche essere pericoloso in base a come si potrebbe rompere Si potrebbe, eh? Non dico che si va a rompere, ma Le saldature A volte sono quello che sono E qui non vedo Girando il braccio La saldatura non la vedo perfetta E stavo dicendo Sono tre pezzi E normalmente Mi sembra che questo sia un pezzo unico Ricavato dal pieno Non è questo il caso Quindi si tratta comunque di Un Un processo di produzione Economico Boh Comunque Questo non mi fa impazzire Io l'ho comprato in realtà perché Al vedere le lame intercambiabili Mi è piaciuto il discorso Di poterlo smontare Proprio per Una pulizia più accurata Perché molto spesso I frullatori Nella parte interna Delle lame Dove c'è l'albero L'alberino Di trasmissione Fanno una muffa Ed è praticamente Impossibile Andate a pulire Da dentro Se non Mettendoci a bollire Il braccio Il braccio O con stratagemmi simili Quindi Andiamo a vedere Gli altri coltelli Le altre lame Questo Neanche Taglia No Questo non ha Parti taglienti Né interne Né esterne Niente Andiamo a vedere Quest'altro E' curioso E' curioso Nemmeno questo taglia Zero Per niente Boh Andiamo a vedere Un altro Ah no Questo direttamente Non ha parti taglienti Di suo Questo Penso che Per come è fatto Vedete che E' un Un asse E' fuori asse Il piattino Non è perpendicolare All'asse Questo penso che Serva per montare Dopodiché Abbiamo l'accessorio L'accessorio Che dovrebbe servire A smontare Il tutto Questo accessorio Si deve inserire Qui sotto Nel foro E Ho paura Di piegarlo Sinceramente Non lo sento Molto Robusto Olè Se n'è venuto Si è staccato Sembra di sì Opla Ragazzi Qua mi Opla Forse Si è sganciato Forse Non ne sono sicuro Ho sentito Un cedimento Bisogna fare leva Bisogna spingere Questa leva In basso Cioè In questa direzione Ora La leva E' corta Il metallo Della leva E' molto Sottile Ce ne potevano mettere Una Opla Fatto Però Mi è costato Un po' Quindi Questa leva E' un pochino Infelice Dà un senso Di Estrema Insicurezza Quindi Magari Con una pinza Verra e propria Forse Si ha più Facilità Nell'estrarre Le lame Che Non tagliano Per niente E' curioso E' molto Curioso Ora Ho Ho una teoria Sul fatto per cui Non tagliano Comunque Ora ve la Ve la dico Vedete Qui praticamente Il L'asse Quello che va Anzi Perdonatemi La camicia Chiamiamo camicia Questo Questo cilindretto Qui Col taglio in mezzo Ho un taglio in mezzo E attorno C'è un anello Metallico Di acciaio Molto simile Agli anelli Dei Portachiavi Quindi Ha un inizio E una fine Non è un anello Chiuso E questo serve A A poterlo Come dire Stirare Per poi Inserirsi Qua Sul Sull'asse Del Frullatore E così Sono Anche gli altri E attenzione Il sistema È comune Per tutti Vedete Comunque Stavo dicendo La leva È qualcosa Di estremamente Infelice Ora andiamo A rimettere Il Coltellino La parte tagliente L'accessorio tagliente Nella sua sede È duro Molto duro Non so se ce la faccio Ma Oddio Io Ho un poco Di forza Ce l'ho Poca Però Se Questo accessorio Questo Strumento Marchingegno Lo deve Utilizzare Una Donna Magari Non troppo Forzuta Può diventare Opla Pericoloso Perché Premendo Per andare A inserire Il coltello Potrebbe Scivolare Anche Il dito E anche Se non è Tagliente Qua c'è il rischio Di farsi Veramente Male Secondo me La silver crest Ha eliminato Volutamente Le parti taglienti A meno che Non ho beccato Proprio Il frullatore Sfigato Senza Senza Il filo Fatto Secondo me Hanno eliminato Le parti taglienti Per evitare Che le persone Al momento Di inserire Gli accessori Quindi Le quattro lame Si possano Tagliare Rivalendosi Poi Legalmente Sulla Ditta Questa è una mia Fantasia Però È curioso Come nessuno Dei quattro accessori Abbia parti taglienti Andiamo a montare Vediamo se c'è un Ah qua c'è Un disegnino Di un lucchetto Aperto Lucchetto Chiuso È molto È molto Libero Cioè non fa Uno scatto Profondo Che lo blocca Totalmente No Devo dire Che non mi fa Impazzire Devo dire Che non mi fa Impazzire Proprio per niente Questa è la scatolina Che nemmeno Si chiude Così Ho messo male Qualche accessorio O Perché non si chiude No Questi vanno così Questo va così Scatolina Non si chiude Resta un poco Aperta E O Non si chiude bene Resta un poco Sollevata Non so se si vede Eh Guarda Non l'ho nemmeno Toccata E la colpa Probabilmente Di questo Di questa lama Proviamo senza Sì Esatto Questa non Impedisce La La corretta Chiusura Sì Sì Comunque La dobbiamo Mettere qua Per forza Perché Non c'è Altro posto Amen Stavo dicendo Casualmente Mi trovo Proprio qui a portata Di mano Un altro Frullatore Immersione Tata Sì Voi direte Ui È grosso Certo Le dimensioni Contano Come si dice Questo qui Ho comprato Alla metro Qualche tempo fa E l'ho pagato Sicuramente Qualcosina più Dei 20 euro Che è costato Questo qua Della Silvercrest Del coso Dell Lidl Però Vedete A parte Le dimensioni Generose Del motore Anche la parte Dell'immersione È molto Molto più grande E vi assicuro Che in questo Che non è Una linea Professionale Questo non è La linea Professionale Della metro È la linea Casalinga L'aggancio Si sente Ma soprattutto Vi devo dire Che questo coltello Queste lame Tagliano Non vi voglio far vedere Il mio sangue Ma tagliano E qui per esempio Questo è in acciaio Quest'altro Invece È in plastica Quindi Un po' di differenza C'è Certo Ah Notare anche La presa Questo è un asciuco Quando si inserisce Già è molto più stabile Rispetto a una presa Europea Si Ora togliamo di mezzo Questo Già Se visto Quello che Volevo vedere Questo è molto Molto economico E Chiaramente Chi compra economico Alla fine Ha risultati Comunque Mediocri Peccato Peccato perché L'ho comprato Sperando che Gli accessori Di ricambio Permettessero Lo smontaggio Completo Del braccetto Ma non è così Una volta Che si smonta Il braccetto Cioè una volta Che si tolgono Le lame Non c'è possibilità Di smontare L'asse di rotazione Quindi pulirlo Bene a fondo Dentro Fuori Eccetera Vi faccio vedere Anche un'altra cosa L'altro modello Che ho Qui È un unico pezzo Questo non è saldato E questo qui Quello piccolino Si Quindi A non essere saldato Non si corre il rischio Che oggi Domani Per le vibrazioni Ci possa arrivare Dritto nei denti Questo Fatto un pochino male Sinceramente Quindi Da parte mia Non passa l'esame Istruzioni Assenti in italiano La scatoletta Con lame di ricambio Che non tagliano In un accessorio Per cambiare le lame Troppo Troppo Debole Non passa l'esame Il confronto Con Le prese Sciuco E questa qui Europea Small Non passa l'esame La ghiera È di una plastica Veramente Molto Molto Economica E Anche le viti È fastidioso Insomma Doversi trovare Viti triangolari Dover andare a cercare Cacciaviti Che Possibilmente Si utilizzeranno Solo per Questa Questa macchinetta E il braccio E il braccio saldato Con le lame Che non tagliano Niente Ragazzi Questa è la mia La mia prima impressione Quindi Penso che domani Andrò A restituire Questo frullatore Della Silvercrest Perché Il mio esame Sinceramente Non lo passa Poi Fate voi E attenzione Ognuno è libero Di decidere Di considerare Quello che compra In maniera Totalmente Autonoma Questo è il mio pensiero Ok ragazzi Se il video vi è piaciuto Se vi torna utile Per decidere Per valutare Eccetera Se vi va Mettetemi un mi piace Iscrivetevi al canale E di volta in volta Andrò pubblicando Nuovi video Facendo le mie Personalissime recensioni E Come dire Illustrando Quello che è il mio pensiero E la mia visione D'accordo ragazzi Vi saluto E alla prossima Bye bye